Ciao a tutti, sono Soraya Yumi, ricercatrice e coordinatrice scientifica di Akako Geographic Exploring. Il 13 marzo alle ore 15.30, nell'ambito del convegno Civiltà e Scomparso organizzato da Karma Meetings, io terò una relazione sull'Amazzonia con i sommi Tiwanaku-Akakor. Dunque parleremo delle conclusioni di anni di ricerca dell'associazione Akako Geographic Exploring su queste due civiltà meravigliose e scomparse Tiwanaku-Akakor in Sud America. Vi aspetto il 13 marzo alle ore 15.30.